3 Ti metto 3 pale dentro Oh, mi stai ammazzato 3 2 E fa me sia, mi fa scusare me 3 2 1 Oggi siamo in questa nuova serie che si chiamerà Cazzo gigante craft E il mio ovviamente E il suo marticranner salve a tutti Ghiaccioli e bevi cazzo No, aspetta, parti sgrediti, che cazzo si chiama a stasera Cazzo noi siamo, ma se Hunter's, Hunter's craft Hunter's craft Bello, cazzo Bello, eh Porca troia Sento entusiasmato, guarda come ci guarda No, la vedo Di qualche malattia di strabismo Ci guarda strano Stavo guardando sia me che stai Nello stesso momento Era una cosa strana Ma beh Allora, in questa serie abbiamo messo la mod Una mod che si chiama Magic Crusade Che praticamente trasforma Minecraft in un MMORPG E quindi ci fa tipo scegliere le classi E più ammazziamo gente Più saliamo di livello E più impariamo nuove skill Bene, Matteo Ma detto ciò Che cazzo di classe sceglierà? E io mi pio Ranger A strong damage Dealer class I risultati non sono buoni Il giudizio ha anche spazio basato su arrows Un genio Ah dice che c'ho l'arco Allora, madonna Cos'è? Io invece ho scelto il mago Guarda che posso fare Ma te facciamo vedere Allora Perché non abbiamo detto che Ci sono dei poteri fighissimi Tipo questo qui è il mio Che non è Ave l'ave porco Devi puntare Perché tu zio non volevi prendere Vabbè Quello qui non è un esempio Fammela a me Eh, te posso fare? Sì, sì Fai qua Allora, vediamo Oh, porca puttana Ma hai tolto due cuori e mezzo No, due cuori e mezzo Non lo so Un po' mi hai tolto No, è una figata pazzesca Poi ce ne sono altri Ovviamente che sbloccheremo col tempo Esatto Allora, vedi In alto a sinistra c'è tipo il livello La vita E il mana Praticamente Se noi facciamo le mosse speciali Che si fanno tipo con le Cose della tastiera Uno, due, cinquanta Poi lo cambiate E io ho tutte quante le abilità Se premiamo I Vedete che io posso fare Il Viper Shot Il Wolf Moth Thing E poi questo qui Non posso farlo Il Magical Shot Perché si sblocca lì Allo quattro E io ho una cosa che si chiama Frozen Cube Ma la voglio sbloccare assolutamente Secondo me Eh, io vedo Frozen Shot Vedo E poi vedo tipo Rain Fiendment Eh, però si sblocca gli livelli più alti Grazie Allora, che bisogna fa? Oltre a mettere il time set zero Eee Oltre a mettere il like al video Perché Allora, arriviamo a Quanti like? Mmm 2.000 Cazzo, te la fai, non te? Eh, minchia Pure 3.000 4.000 È una sfida per i tuoi iscritti Io te lo sto a dicere Ragazzi, vi ho sfiduto tutti Arriviamo a 2.000 like Pure 3.000 Se ce la fate Se voglio Noi ti diamo per voi Che cazzo Mettete quel fottuto mi piace E poi Matteo Hai detto che tipo Volevi sponsorizzare il mio canale E robe così Mi sembra che ti senti sentito bene Non lo so Non l'ho sentito male Allora, lo scopo di questa serie È camminare sugli alberi Eee Chi imita Tarzan Vince Ok, ho vinto Ho vinto No, vabbè Io sono più scipita che Tarzan Vabbè Allora, per salire di cose Per salire di stats E di livello Bisogna ammazzare gli animali Ah, vabbè Proprio Ma con i poteri o con le spade E robe così? Quello cazzo di fuori Oppure col pisello È una cosa che ti spaventi Livello 2 ho fatto io Ma tu lo vedi il fuoco che spade? Sì che lo vedo Ma c'è pure altre skill tu Oh, un cuore in più Che figata Che puttanata Io ho ammazzato 200 mucchi 400 zii E tu e non mi hai dato niente Ma dai Aspetta, però lo sa Tipo la mossa quella con E You must keep a bow Grazie cazzo Ok Oh 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 Ok Oh dio L'ho cissuto Livello 3 Livello 3 Abbiamo avuto Cazzo che figata Io voglio un cuore in più Ma a te Hai un cuore in più? Io c'ho un mezzo in più però Comunque io non so che faceva la mia skill Aspetta Allora, se premo E con l'accento Fa tipo shot a Poisoned Arrow Instantly E fa bow Oddio che figata Mattè Che cazzo hai fatto Cazzo che ho sbloccato Mattè Che hai sbloccato Ma hai messo Sì me l'ha levato però Vieni vieni Proviamolo su una mucca Spera rifammelo Rifammelo a me Vediamo un po' che effetto mi metto Vai Ok Vediamo quanto ti do Fermo E vabbè no target De merda E vabbè se ti muovi Mattè già di più cero No niente È stronzo Non mi fa sparare È stronzo Prova una mucca Oh 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 È la mucca dove è Aspetta È la mucca Eccola È il massimo Oh 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 L'hai visto? L'hai visto? Sì ho visto Piove neve Vediamo quanto ha tolto Non lo sapremo mai Togli un cazzo No ma mi sa Guarda premi E guarda la seconda skill Che potere c'ha Ho fatto tre di abilità Forse ne ho sbloccato un'altra Fammi provare Matteo Fermo fermo Ok Che cazzo Oddio Ok Che cazzo fai? Ti dippi da me Aspetta 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 Vi metto qua Vai prova 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 Eh non se riesco No vabbè No Ti dippi tu da me? No Ma che cazzo? Sì sei arrivato tu da me Ma Ma hai scambiato No non c'era Si poteva io Non ho fatto un cazzo Eh forse Ci possiamo scambiare Di posizioni Eh mi sa De sì Prova un po' No vabbè Ma che stica a te? Oh Sei qui da me Basta Però un po' con la mucca E dov'è? Eccola vediamo Va scambiato Ah no Porti le cose tu Non ho capito un cazzo Ma che Sei a livello 4 comunque tu Io quasi a livello 4 No livello 3 ancora A livello 4 non posso fare altre cose Magical shot Fermo tutto Aspetta prendiamo le pecore Così possiamo fare anche la lana Aspetta un po' che fa il magical shot Sono anch'io a livello 4 Shot a magic arrow Which will inflicts critical and magical damages Minchia Prima un po' Forse è qua Prima un po' Aspetta Oh ho lasciato le mucche Oh ho lasciato le mucche Aspetta Porca 3 No vabbè Ma tu che figata Oh cazzo A che livello stai adesso Artic? Perché me l'ho chippato tutto Perché ci trovi la vita A che livello sei rimasto Artic? Io sono a livello 4 Ah ok sei rimasto a livello 4 Perfetto Dove sei? Eccoti Vediamo il mio potere nuovo Oddio Che cazzo era Artic? Non ho capito un cazzo Artic Matteo guarda Guarda Te faccio vedere se ho una mucca Vieni Guarda la vedi quella mucca lì? Mh Stai implorando Ti prego non farlo E io lo faccio guarda Che cazzo Gli castra tipo la montagna addosso Ma io ho il magical shot Oh ma si muove da sola Porca puttana Cazzo Matteo ma che figata è Artic guarda 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 La mia friccia si muove da sola Guarda la Guarda verso la mucca No aspetta non vedo Non vedo Dall'altra sponda Dai froge Vai Sì guardo Spe 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 Ho fatto il cazzo Fa schifo sta mossa Vabbè perfetto Io posso far spawn ai cani però Uno Due No dove cazzo stanno? Stanno morendo Sono nell'altro Ok uno è vivo Vabbè ammazzi l'ammazzi Lo dico Ah cazzo Grande Lo uccisi? Bastardo Per si impari Stai fermo Non ammazzare Artic Coglione Ok Bravo Grande Cominciamo bene la serie No Artic Tu non puoi capire Ma nell'altro mondo Cioè Sono tipo tutte Isole volanti Con tutti i dungeon E tutti tipo Centauri Mostri strani Dove? A quell'altro mondo Eh bisogna andarci Però non so come si fa il portale Quindi O se lo givvamo Io una volta ce l'avevamo fatto Ti ricordi? Eh sì ma con la legna blu Si fa Ma non la trovo più la legna blu Non so che cazzo Di fin ha fatto Giv Legna blu Eh perché Cioè Ho provato pure con la legna blu In creative Prima Ma non me lo fa uguale il portale Quindi io so givvamo O so givvamo Scegli tu E so givvamo So givvamo Ah vabbè Sono qua Sono qua Sono qua Sono qua Sono qua Dietro di testa Vieni 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 Sto per fare la mostra No no fai Fammi la mostra Fammi la mostra Eh vieni Perfetto Guarda lì c'è Guarda lì c'è Cosa c'è Guarda lì c'è Cosa c'è Matteo I primi nostri avversari Un creeper e una zombie Ci stanno È una cava comunque Pensaci tu Io pensavo Ok Ok finito il mana Perfetto Ok Sto foccato Sto foccato Sto foccato Sto foccato Ok Allora vediamo un po' La prossima abita la sblocchiamo A livello 8 Io all'8 la Sblocco l'altra Io al 14 Sblocco l'X Oh che cazzo è Cosa c'è Oh 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 C'è un coso figo Sly Sly helmet Sly helmet Non so che cazzo è Arctic 34 endurance Che figa t'è Non lo so Vai giù Non so che cazzo ho cliccato Non clicca tipo Non so che ho cliccato Non clicca F6 Ah Vabbè Arciere contro arciere Chi vincerà Chi vincerà Quanto cazzo l'ha tolto Oh l'ho one shotato il tipo L'hai one shotato Porca troia Comunque vi diciamo che Nel prossimo episodio Andremo nell'altro mondo Nell'altro mondo Diciamo che C'è raga Sono cose impossibili Sì la casa la facciamo di là infatti Sono tutte quante isole volanti Tipo tutte quante Arles Tutte strane Con tutti i mostri strani E cose strane Però il problema è come fare il portale Quindi O Ci ho detto voi sotto nei commenti Ocean creeper Vabbè non è il problema L'ammazzi tu col tuo power Grandissimo Quindi O Tipo ci dite come si fa il portale Per andare nell'altro mondo Oppure Solo chi vamo Quindi Solo chi vamo Ok E Vabbè Voi dite c'era lo stesso Come si fa Intanto ce lo chiamo Sì esatto Esatto Comunque raga Nell'altro mondo ci sono tipo cose Tipo centauri Fate Elfi Dungeon Armature colorate Armi colorate Indizi Non so che cosa Quindi raga Ma ci sono pure chest Robe così Sì sì è pieno No dobbiamo andarci assolutamente Minchia non vedo l'ora Dai Quindi raga Per questo primo video è tutto Vi invitiamo di nuovo A lasciare un mi piace Ciao Passate dal mio canale Questa volta posso Di mattino Rappare Poi commentate Lasciate un po' di commenti Esatto Magari Consigli Idei Qualcosa del genere Quindi commentate Iscrivete Se ancora non siete Non fossi iscritti Italiano 10-1 Nel prossimo episodio Siamo subito Nell'altro mondo Quindi Quindi sintonizzati Qui Su Mottofer 97 Quindi Oddo Sabato Credo Oddo Ma Non lo so Uscirà il secondo episodio Che andremo nell'altro mondo Esatto Uscirà l'altro episodio Che andremo nell'altro mondo Figo E Non vedo l'ora Cazzo Lasciate like Bella Lasciate like Arriviamo a 3000 Vi ho sfida dell'inizio Passate dal mio canale E Matteo Fai l'auto tua Lì allo studio Bella Bella raga